Ciao ragazze, eccomi con un nuovo video, questo qui è il video mega collaborazione lanciato da Feli Chitti, a cui mando un bacione, ciao bellezza! E nulla, inizio subito con il video che è il phase of the day, ovvero la faccia del giorno e quindi vi mostro subito il trucco che ho fatto, allora praticamente questo qui spero si vedi bene e quindi inizio a farvi vedere e a mostrarvi i prodotti che ho utilizzato allora ho applicato per prima cosa il primer, io ho utilizzato questo qui dell'Amon e questo qui, su tutta la palpebra mobile è fissa poi ho applicato un ombretto colorazione Sang Blue e questo qui è l'ombretto minerale della Neve Cosmetics l'ho applicato su tutta la palpebra mobile però sono andata a tamponarlo e dopodiché ho preso un pennellino da sfumatura e ho sfumato il tutto poi ho creato nell'angolo esterno una V e l'ho creata con questo blu qua questo qui e l'ho preso da questa palettina Avon quindi ho creato la V e dopodiché ho ripreso il colore questo qui della Neve Cosmetics e l'ho passato quindi l'ho passato sulla V che ho creato poi dopodiché ho preso di nuovo il blu di questa palettina e l'ho messa nella rima interna e dopodiché sul blu che ho messo sulla rima interna ho messo anche il colore della Neve Cosmetics quindi quest'altro blu che mira nel viola e quindi l'ho messo sul blu quindi per dare quel riflesso un po' viola poi ho preso una matita nera questa qui dell'Amon e l'ho messa nella rima interna con le liner questo queen gel dell'Amon della Super Shock colore nero ho tirato quindi una linea di liner dopodiché sono andata a piegare le ciglia e ho messo una quantità industriale di questo mascara della Super Shock sempre di Avon mentre per quanto riguarda il viso ho applicato come correttore ho questo qui dell'Amon della linea Calming Effect e come fondotinta ho applicato la CC Grimm dell'Amon nella colorazione Natural Beige mentre per fissare il tutto ho applicato una cipria questa qui della Color Trend nella colorazione Traslucentan con un kabuki abbastanza grande sono andata a fare un leggerissimo contouring con questa terra della Essence nella colorazione Love To Be Matte e ho applicato le perle dell'Amon che sono sia blush che illuminante quindi l'ho applicato giusto qui proprio alla parte degli zicoli mentre per quanto riguarda le labbre sono rimasta molto naturale ho applicato questo gloss nude diciamo comunque un rosa leggerissimo come potete vedere mentre per le sopracciglia ho usato questa matita nella colorazione Brown della linea Host questa qui è una marca super super Love Coast e quindi nulla questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto saluto a tutte le ragazze che hanno collaborato mando un bacione a tutte voi ancora un bacione per Fedi Kitty ciao bella e che altro? nulla spero che questo make up vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao